Oltre 300 matricole della LUIS Guido Carli hanno partecipato all'Open Day organizzato con SFC, Sistemi Formativi Confindustria, presso l'Auditorium della Tecnica nella sede di Confindustria a Roma. Un'occasione di incontro tra due mondi sempre più interconnessi, quello del lavoro e quello dell'università, e tra la prima associazione di rappresentanza delle imprese e una delle eccellenze del panorama nazionale dell'alta formazione. Giornata importante oggi per le nostre studentesse e i nostri studenti. Open Day di Confindustria hanno compreso i meccanismi di funzionamento della galassa confindustriale, hanno capito quali sono le dinamiche che caratterizzano questa grande organizzazione di imprese, piccole, medie e grandi, che rappresentano un grande bacino di utenza, una grande realtà per il sistema paese italiano, sempre più proiettato verso l'internazionalizzazione. Con Alberto Marenghi, vicepresidente di Confindustria per l'organizzazione, lo sviluppo e il marketing, a descrivere le principali caratteristiche del sistema associativo sono infatti intervenuti, tra gli altri anche la direttrice generale di Confindustria Francesca Mariotti, e il direttore del centro studi Confindustria Alessandro Fontana, che hanno consentito a studentesse e studenti di immergersi e toccare con mano il funzionamento e l'organizzazione del sistema. Giornate come quelle di oggi rappresentano un momento di incontro tra il mondo del lavoro, Confindustria, e il mondo dell'università, la LUIS. Molte sfide oggi attendono il mondo dell'impresa, e Confindustria vuole continuare ad avere l'orgoglio di rappresentare le più importanti imprese di questo paese. Abbiamo bisogno però di giovani formati, di giovani che siano in grado di aiutare gli imprenditori a reggere le sfide di questo paese. Sfide dell'oggi, ma soprattutto le sfide del domani. Le keywords della giornata sono state imprenditorialità e internazionalizzazione, due dimensioni fondamentali che i professionisti di domani dovranno sviluppare nella loro cassetta degli attrezzi, fatta di competenze ed esperienze per prepararsi a sfide inedite e in perpetua trasformazione.